A vendere strumenti musicali ho iniziato più o meno nel 2016. La prima volta che ho trasferito il laboratorio a Cattolica mancava un punto di riferimento, un negozio che vendesse anche accessori e quindi piano piano ho voluto abbinare la leuteria al negozio. Delle chitarre Sigma sono rimasto molto stupito perché sono costruite molto bene, in maniera molto precisa, si vede che c'è molta cura e la risposta sonora ne è una prova e il rapporto qualità-prezzo è in linea con la filosofia dei miei negozi. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!